Il conducente di un carroattrezzi è stato denunciato a piede libero dai poliziotti della questura di Caltanissetta per guida in stato di alterazione causata da assunzione di stupefacenti, oltre a ricevere diverse contravvenzioni per violazioni del codice della strada. L'autotrasportatore alcuni giorni fa stava percorrendo la statale 640 in direzione dell'autostrada A19, quando a un certo punto ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. I poliziotti delle volanti erano quindi intervenuti per effettuare i rilievi e prestare i primi soccorsi all'uomo, che venne accompagnato all'ospedale Sant'Elia per ricevere le cure del caso. Dalle analisi eseguite dal personale sanitario però era emerso che il conducente del carroattrezzi aveva assunto stupefacenti e quindi è scattata automaticamente la denuncia. Non appena verranno chiuse le indagini si passerà alla fase del processo, se la procura deciderà di esercitare l'azione penale.